un bimbo gravemente maltrattato può diventare un adulto molto malvagio prenderemo esempio la storia di circe la terribile maga della mitologia greca circe nacque e visse alla corte di suo padre dio elios era una bellissima fanciulla mite sensibile amante della compagnia degli uomini più che degli dei e cercava sempre di far contenti i genitori senza mai riuscirci perché nulla era sufficiente per farle arrivare una lode diventata adolescente capì che aveva un potere immenso creare i farmaca le pozioni dalle piante e credete di ricevere finalmente stima e invece fu peggio fu giudicata dai genitori non solo insulsa ma pericolosa una vera strega e la esiliarono giovinetta nell'isola di eea forse il promontorio del cerceo in quel posto selvaggio si trovò disprezzata sola e allora con tutta la sua forza schiacciò la paura e la sostitui con l'orgoglio l'autosufficienza diventò però insensibile ai sentimenti suoi altrui alla pietà e mise tutti i suoi poteri al servizio del male mise con le bestie feroci coi leoni che le tenevano compagnia e quando i naviganti arrivavano da lei li trasformava in cose orrende oppure li uccideva i pochi viaggiatori quindi incontrarono la sua crudeltà come i compagni di ulisse trasformati in porci che lei guardava ridendo mentre loro grugnivano e supplicavano ora questa storia di circe ci dice che i gravi maltrattamenti nell'infanzia possono bloccare lo sviluppo emotivo del bambino e spingerlo ad esaltare solo la forza la sopraffazione a diventare insensibile ai sentimenti del prossimo anzi a godere per lo soffrire come aveva sofferto lui molti sono i personaggi della storia che hanno questo questa dinamica hitler assistetta alle continue violenze del cosiddetto signor padre donnaiolo che picchiava la moglie il figlio e un giorno per difenderla madre gli lanciò un coltello ma il padre lo picchiò fino a ridurlo in fin di vita e così stalin che pseudonimo che significa uomo d'acciaio nacque da una relazione extra coniugale fu picchiato pesantemente dal padre tiliste anche dalla madre e da grande diventò crudele anche lui e non seppe neanche amare suo figlio anzi lo mandò a morire giustiziato dai tedeschi e così mao dittatore cinese fu moltrattato dal padre che gli faceva addirittura mangiare i suoi avanzi e sviluppò un tale odio che gli sarebbe piaciuto torturarlo e bocassà imperatore dell'impero centrafricano fu torturato dai colonizzatori francesi nell'infanzia insieme ai suoi genitori che poi morirono è diventato capo di stato e fece uccidere con la stessa violenza e con la stessa crudeltà i suoi numerevoli nemici e così dada il dittatore ungherese che visse senza il padre con una madre strega che faceva riti sanguinari e crebbe con la crudeltà della madre verso animali e uomini e giorge videla il dittatore argentino che visse con una educazione terribile rigidissima senza amore e fu responsabile di crimini contro l'umanità e dell'omicidio dei desaparecidos tutte queste storie sono raccontate nel bel libro di chalmé l'infanzia dei dittatori dunque i maltrattamenti e gli abusi dell'infanzia sono un germe maligno e proprio perché il cervello recettivo debole possono diventare una pianta gigantesca capace dei più terribili delitti compiuti senza rimorso in questo caso la crudeltà subita o assistita ha distorto lo sviluppo emotivo ha seccato ogni germe di umanità annullando la pietas la pietà eppure ci sono altri individui che hanno avuto la stessa terribile infanzia che sono però diventati uomini sensibili saggi padri amorevoli perfino più attenti ai bisogni degli altri e allora perché questa differenza dove sta il bivio che segna le due opposte strade ciò molto riflettuto e penso di poter affermare che il bivio sta nel sentire o meno il dolore che è riuscito a stare nel dolore a reggerlo prenderà una strada chi lo rifiuta totalmente ne prenderà purtroppo un'altra la tristezza infatti crea una relazione interna compassionevole la parte bambina che soffre trova dentro di sé una risposta in una parte che la abbraccia psicologicamente che lenisce la sofferenza che è il genitore affettivo interno e questa relazione se la terra dentro tutta la vita invece chi soffre da bambino e non riesce a creare questa relazione prova solo rabbia e prende l'altra strada del bivio e questa rabbia agita all'esterno trova godimento nel vedere il dolore altrui e anche questo diventa poi un modello automatico da grande dunque occorre educare i bambini alla gestione del dolore dir loro che la tristezza è normale la si può provare è utile e la si può tenere dentro alleviandola con l'aiuto degli altri manifestandola all'esterno e solo così nasce il germe di quel dialogo interno tra i propri sentimenti e l'istanza consolatoria i genitori in questo sono importantissimi perché a specchio mostrano come si possa tenere manifestare la tristezza chi invece non fa questo le persone crudeli non hanno sviluppato questo dialogo preziosissimo non hanno accettato il dolore conoscono solo la rabbia con cui schiacciare i sentimenti propri altrui per non mettere in crisi la fredda scelta narcisistica c'è una bella frase che riassume tutto questo della scrittrice brasiliana alia luft che dice l'infanzia il suolo su cui andremo a marciare tutta la vita se su questo suolo c'è il germe del dialogo interno consolatorio siamo a posto se invece non c'è e il terreno è freddo e rigido potremo diventare crudeli grazie di aver ascoltato queste parole e se qualche playlist vi interessa continuate a stare con me a presto